Ancora un arresto per droga ad Arezzo, prosegue infatti la caccia agli ultimi spacciatori coinvolti nell'operazione Duomo Vecchio. A finire in manette il quinto dei sei destinatari di custodia cautelare in carcere che erano sfuggiti alla maxiretata dello scorso 8 maggio, si tratta di un 28enne nigeriano considerato dagli inquirenti uno dei pusher più attivi della piazza Aretina. Spacciava secondo gli investigatori cocaina ed eroina al parco del Pionta ma non solo, faceva anche infatti consegne in tutta la città. Il giovane si trovava in Italia da tre anni con un permesso per motivi speciali in seguito al mancato rilascio dello status di rifugiato, a rintracciarlo anche grazie alle intercettazioni telefoniche gli uomini della squadra mobile della questura di Arezzo guidati da Francesco Morselli. L'uomo è stato trovato ieri sera nel quartiere di Saione, è stato avvicinato ed arrestato. Con sé aveva 135 euro in banconote di piccolo taglio e due cellulari. Per lui si sono aperte le porte del carcere, aggiungendosi agli altri 30 già arrestati a conclusione dell'operazione. Oltre a loro ci sono anche sei indagati e sottoposti a misure cautelari alternativa al carcere. Il Pionta infine continua ad essere un sorvegliato speciale. Impegnati i uomini della Polizia di Stato e della Polizia Municipale, proprio ieri una pattuglia del reparto Prevenzione e Crimine Toscana ha rintracciato all'interno dell'area verde un cittadino marocchino con quasi 10 grammi di hashish al quale è stata contestata una violazione amministrativa per retenzione di sostanze stupefacenti.